Un albero di Natale realizzato con reti da pesca e conchiglie è stato posizionato sul porto turistico a San Marco di Castellabate. L'idea è nata da uno dei marinai del posto, Franco Di Biasi, conosciuto come il Capitano Sciarpetella, che è riuscito a coinvolgere altri pescatori, associazioni e bambini. Sul retro delle conchiglie è stato inciso il loro nome. Il messaggio che si vuole trasmettere con questa iniziativa è quello dell'ecosostenibilità e del riciclo. Ad imboccarsi le maniche l'Associazione Pescatori di Castellabate e il Consorzio Pescatori Riuniti. L'iniziativa inoltre è stata sostenuta anche da Assunta Niglio, consigliera comunale del comune di Castellabate, con delega alla pesca e all'area marina protetta. L'albero, struttura in ferro, viene illuminato nelle ore serali dalle boe galleggianti, che solitamente servono a segnalare gli attrezzi utilizzati in mare per la pesca notturna. In occasione dell'inaugurazione erano presenti gli alunni dell'Istituto Comprensivo di Castellabate, che hanno addobbato l'albero con le conchiglie personalizzate. Presenti anche il sindaco della città di Castellabate, Spinelli, i consiglieri comunali Marco Di Biasi e Salvatore Marinelli e la Guardia Costiera.